Attraverso un protocollo d'intesa che guarda avanti abbiamo risolto un problema che si fascinava da molti anni quello relativo alla biblioteca Martini quando fu inaugurato questo museo una collezione storica di straordinaria importanza libraria però attraverso un protocollo d'intesa con conservatorio dove si valorizza anche la funzione del conservatorio all'interno della città e anche all'interno del museo della musica quindi credo un buon lavoro da un punto di vista della riorganizzazione delle attività culturali a cui noi ci stiamo dedicando, abbiamo dedicato molto tempo a questi due anni di promessa